La Nato e l'Unione Europea parlino con una voce sola. Nel piccolo abbiamo fatto una proposta. Ci sia un inviato speciale dell'Unione Europea e della Nato che sia possibilmente lo stesso. Abbiamo per questo proposto una figura autorevole e credibile, quella di Angela Merkel. Terzo punto. Le sanzioni sono inevitabili, lo dicono tutti, giusto. C'è un dato di fatto che ha ricordato il Presidente molto giustamente, il Presidente Draghi. Le sanzioni le paghiamo anche noi. E se è vero che l'Unione Europea ha costituito un fondo da 5,4 miliardi di euro per l'emergenza Brexit, è altrettanto vero che occorre un fondo quantomeno doppio per agevolare e in qualche modo aiutare le aziende che saranno colpite dalle sanzioni. In Italia e nel resto d'Europa. Anche su questo si mostra la solidarietà. Grazie. Grazie.